Il sport responsabile è uno sport che completa il percorso educativo di tutti gli stakeholder interessati, di tutti quelli che intervengono sul giovane che cresce. Per cui, come abbiamo detto, prima la famiglia, poi la scuola e poi la società sportiva, per cui l'allenatore, gli arbitri, tutti quelli che compongono questa filiera. È evidente che lo sport è responsabile quando si aiuta una crescita sana e corretta del giovane. Oggi purtroppo vediamo che c'è un abbandono dell'attività sportiva nei giovani, intorno ai 14-15 anni, con percentuali elevatissime, evidentemente stiamo sbagliando qualcosa. Per cui noi, ad esempio, come Fondazione Franchi, siamo entusiasti del protocollo che è nato fra il Ministero dello Sport, che finalmente in Italia abbiamo, perché per troppi anni è mancato nel nostro governo un Ministero dello Sport e il Ministero di Istituzione, Università e Ricerca, che hanno fatto un protocollo che aiuterà a portare avanti un progetto di crescita, partendo, appunto, come abbiamo detto, dallo sviluppo dei giovani, bambini, bambine italiani, stranieri, eccetera, eccetera, ad avvicinarsi allo sport con una cognizione diversa, una cultura diversa, che questo gli permetta di diventare, quando cresceranno, persone migliori, aiutare la nostra società a svilupparsi in maniera più corretta. La comunicazione ha un ruolo fondamentale, infatti sono veramente contento che un'azienda importante come Estra abbia voluto istituire questo premio per i giovani giornalisti. La comunicazione è la ruota che mette in moto tutte le cose che abbiamo detto finora, perché senza informazione corretta di tutto quello che viene fatto e di come deve essere fatto non riusciamo a fare niente, per cui è veramente fondamentale l'attività del giornalismo, è importantissima, in questo devo dire che l'USSI italiana e l'USSI toscana, cioè l'Unione Stampa Sportiva, fanno veramente un lavoro eccezionale anche di formazione dei loro giovani giornalisti per portarli appunto a crescere come deve crescere tutta la filiera.